il fumatia pascal è il romanzo più conosciuto di luigi pirandello e in fin dei conti racconta di un desiderio che abbiamo avuto tutti nella nostra vita quello di cancellare l'esistenza attuale viverne una parallela in cui siamo convinti di poter fare quello che vogliamo salvo poi accorgerci che in realtà siamo due volte prigionieri e anche il libro che spesso veniva dato in coppia e malavoglia come lettura estiva durante l'anno scolastico e dopo le sventure della famiglia siciliana ossessionata dai lupini il fumatia pascal era una sorta di racconto leggero la vera tragedia era quando leggevi prima pirandello e poi verga la storia racconta con un lunghissimo flashback della protagonista che si chiama ovviamente mattia pascal che lavora nella biblioteca di miragno un paese ligure con l'entusiasmo di un pokemon di fuoco buttato in fondo un lago mattia proviene da una famiglia inizialmente benestante grazie un'eredità paterna che però va in malora per i raggiri dell'amministratore tal batta malagna il protagonista vive con la moglie romilda e la fastidiosa suocera marianna pescatori gradevole come il gesso sulla lavagna quando dovete scrivere i logaritmi con mano esitante ma non solo la morte delle figlie gemelline neonate quella dell'anziana madre insomma giunto al culmine della sopportazione un giorno mattia decide di partire direzione marsiglia da dove si sarebbe imbarcato per l'america e tanti saluti a tutti arrivato però a nizza legge un opuscolo in cui si parla di gioco d'azzardo e così cambia il piano niente marsiglia e si monte carlo direzione casinò qui nella cittadina in cui se non hai quattro yacht sei considerato una bertuccia vince la roulette una discreta somma di denaro che i soldi non faranno la felicità ma nel dubbio è sempre meglio averne con quella somma così potrà anche riscattare tutti i suoi averi sul treno di ritorno però sfogliando il giornale legge che è morto nel suo paese in un mulino le autorità dichiarano di avere trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione e quindi irriconoscibile o meglio quasi irriconoscibile visto che la moglie di mattia assicura che si tratti proprio del marito scomparso ormai da molti giorni emo si chiede il protagonista emo ci si diverte avrà pensato visto che decide di prendere la palla al balzo la gente mi crede morto bene allora posso fare quello che voglio di fatto mattia pascal è una sorta di fantasma adesso per la società non esiste più e così all'inizio prova a sfruttare questa situazione assume l'identità di adriano meis inizia a viaggiare in lungo in largo fino ad arrivare a roma dove va a vivere nella pensione del signor paleari arrivando innamorarsi anche della figlia sua omonima adesso però i nodi arrivano al pettine come può sposarsi con adriana se lui non esiste per l'anagrafe per lo stato per nessuno come può intestarsi qualcosa se non ha uno straccio di documento e poi dopo essere stato oggetto di un furto da parte del malvagio terenzio cognato di adriana che alleggerisce mattia di ben 12 mila lire come può fare denuncia per conoscendo il responsabile se in soldoni non ha un'identità insomma sembrava una bella cosa ma ogni medaglia il suo rovescio alla fine si ritrova più prigioniero di quando è partito e così che cosa decide di fare inscenare un suicidio e quindi tecnicamente come se fosse morto per la seconda volta pur essendo ancora vivo con tanto di cappello bastone lasciati su un ponte del tevere ormai sono passati due anni dalla sua prima morte diciamo così e decide di ritornare in liguria miragno qui però scopre che la moglie non ha certo fatto la penelope anzi si è data la pazza gioia si è risposata con pomino il miglior amico di mattia vatti a fidare ed è pure diventata mamma di una frugoletta e così la tentazione di rovinare i piani della fastidiosa consorte era alta ma alla fine prevale la tenerezza verso la pupetta decide allora di ritornare alla sua biblioteca e di tanto in tanto eccolo portare i fiori alla tomba sulla quale vi è il suo nome oppure eccolo lì che mette per riscritto la sua storia su consiglio di donna egidio e a chi lo incontra non riconoscendolo più si presenta dicendo io sono il fumatia pascal